Amici di Milan.soccer, sono passate poche ore ma penso che la rabbia sia maturata, sia ancora di più di quanto non lo fosse ieri sera. Io devo essere sincero, intanto ci tengo a voi e sono veramente contento di conoscervi seppur così, senza farlo direttamente. Per questo vi chiedo sempre l'iscrizione al canale, il like e il video, però qui bisogna che ci fermiamo un attimo, tanto adesso c'è la nazionale, bisogna riflettere tutti insieme perché la pressione che dobbiamo fare, che dobbiamo in qualche modo alimentare su chi prende le decisioni, da qualche parte deve pur cominciare. Cominciamo da noi, cominciamo facendo massa, per questo vi chiedo di condividere il video perché io ci metto la faccia e ho coraggio anche a dire a questi incapaci di doversene andare perché non è possibile, non è possibile che nessuno paghi per uno scempio di questo tipo. Ogni volta c'è sempre qualcuno che dice ma adesso stiamo crescendo, stiamo migliorando, dove sono andate a finire tutti quelli che dicevano abbiamo, avete esagerato nelle prime giornate un Milan inguardabile, un Milan inguardabile contro una Fiorentina modesta. Non abbiamo giocato contro il Liverpool con cui abbiamo perso, non abbiamo giocato contro il Manchester City, abbiamo giocato contro una Fiorentina che se andate a guardare oltre diciamo così ai due gol e a due gol che comunque sono stati giustamente annullati alla traversa, insomma questa è gente che entra in area e se non fa gol poco ci manca. Abbiamo una difesa che è qualcosa di indimenticabile, ce la ricorderemo a vita, esattamente come ci siamo ricordati a vita la difesa che avevamo quando lì c'erano personaggi del tipo di Baresi, Maldini, Tassotti, Costa Curta, Tiago Silva eccetera eccetera eccetera. Noi non ci possiamo dimenticare di questa accozzaglia e colpa unica di tutto questo e del signor Zlatan Ibrahimovic, il quale con il suo atteggiamento di accentratore, di vecchio giovane che pensa che stia giocando al fantacalcio, ci ha messo in una situazione di imbarazzo totale, non è possibile che non salti nessuna testa, dobbiamo fermare questo Milan, abbiamo due settimane, ci dobbiamo ripresentare con un assetto completamente diverso, debbono saltare le teste, in primis quella di Zlatan Ibrahimovic e poi a cascata, a me non mi interessa, volete cambiare Fonseca, volete prendere Rangnick, volete prendere chi vi pare, non mi interessa, ma basta con i capri spiatori, questo fallimento sportivo è un fallimento che ha un nome e un cognome, un fallimento per chi segue il Milan che parte dalla base, parte da un under 23 che è penultima in classifica, poi passa attraverso una prima squadra che è alla merce di tutti, ci prendono in giro le persone, io ho provato a stilare una pagella, però che cosa volete che vi dica? che forse Megna è l'unico insieme a Pulisic che prenda una sufficienza? Non lo so, Tomori, estremamente distratto, non esiste che tu prenda un gol dal rinvio del portiere, beh, comunque Emerson Royal non lo voglio più, senza voto, Emerson Royal senza voto, non meriti nemmeno l'insufficienza, perché l'insufficienza è darti considerazione, Gabbia fa quello che può in mezzo a Emerson Royal e a Tomori, cosa volete che faccia Gabbia, chi è Franco Baresi? Gabbia è stato convocato in nazionale, si è ritrovato, vedrete come farà bene in nazionale, come sta facendo bene Calulù, come sta facendo bene Adli, come ha fatto bene De Chetelare, il problema è il marcio che c'è all'interno della società, considerando poi che è Teo Hernandez quella pagliacciata finale, ora bisogna aspettare il prossimo turno in cui Teo Hernandez continua, l'abbiamo detto l'anno scorso, gialli, rossi, rossi, gialli, vada a credere l'arbitro, o comunque a parlargli ad alta voce, cosa ti aspetti che faccia un arbitro? Che ti dica aspetta ricominciamo, no 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 no, annulliamo tutto e adesso hai ragione tu per cui facciamo che ti do un fallo a favore, non me ne importa niente se c'è l'adrenalina di fine partita, sei un professionista che prende miliardi, non puoi comportarti a questa maniera, 3 e mezzo, la peggiore partita da quando è al Milan, in difesa inesistente, col pani lo salta, fa quello che vuole, intelligente l'allenatore della Fiorentina, tutti si aspettavano che quel povero disgraziato di Emerson Royal facesse un'altra serata, era fatta lo stesso nonostante tutto, e invece se ne sono andati di là lui e Dodo, inizia alla fine bene anche perché fa munire Dodo, poi scompare solo quel cross per il gol di Pulisic, Reinders, Reinders sufficiente? Ma chi lo so non lo so, forse fa movimento, anche Fofanà fa movimento, ma per il resto niente Abram, io fammi capire una cosa, ma tu hai ferri da stiro al posto dei piedi, o sei uno che la vuole mettere dentro? E ti diamo il rigore e la metti, non fai gol, e stai davanti alla porta e non fai gol, io non lo so, non lo so, non lo so che cosa vi viene in mente, che cosa volete fare adesso, ci volete prendere in giro come ci ha preso in giro ieri sera Fonseca con la sua intervista nel dopo partita, ci volete prendere in giro, ci volete dire che siete in fase di costruzione, se uno non sa giocare a pallone, non c'è nessuna fase di costruzione di un progetto sportivo, se uno non sa giocare a pallone, non sa giocare a pallone. Morata, ho scritto, non svolge efficace il suo ruolo di regista, ha fatto eccezione per alcune giocate isolate, Pulisic, sì, gli ho messo un set perché nell'azione del rigore, fallito da Teo Hernandez, conquistato dai Reinders e ci mette lo zampino, per il resto si rivela poco propositivo nel primo tempo, nella ripresa trova il gol del pareggio, insomma, è forse uno di quelli alla fine che mi viene meno voglia di dire che tu non sei all'altezza di poter giocare contro il Milan. Ora, 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 e questo è certo, bisogna fermare, fermarsi e non mi fate vedere, cari amici del Milan, che per due settimane non tirate fuori una parola, non me lo fate vedere, che per due settimane siete muti, oppure la solita intervista del cazzo in cui dite dobbiamo lavorare, ma cosa volete lavorare? Andate da un podologo e vi fate girare i piedi, andate a farvi girare i piedi, non sapete giocare a pallone. Va bene, ragazzi, io ho provato a fare una pagella molto velocemente, Mignan sei e mezzo, Emerson Royale quattro, Matteo Gabbia sei, Tomori quattro, Teo Hernandez senza voto tre, due, uno, Fofanà sei, Reinders sei e mezzo, Pulisic sette, Morata cinque e mezzo, Leao sei, Abram quattro e Paolo Fonseca va alla pausa per le nazionali con più dubbi che certezze, la Fiorentina lo ha imbrigliato, non ha capito nulla di questa partita e alla fine si è permesso anche di dire che il Milan aveva fatto bene in alcune circostanze. Ragazzi, se ci volete prendere per il culo sappiate che noi non abbiamo l'anella a naso e saranno due settimane in cui vi consigliamo di seguire il canale a voi tifosi e anche a voi del Milan di seguire il canale perché se qualcuno vi allisce il pelo sicuramente non sta in questo canale, ciao!